perla ecco qua le uccia sto cercando di farli uscire tutti mancano solo Tullio e Sveva comunque non ho avuto problemi a mettere la pettorina l'ho messa a tutti compresa perla anche se perla non è uscita però anziché stricarsi a terra stavolta se è seduta e basta anche se non ho camminato un po' l'ho tirata verso di me però la pipì bravo però niente comunque sto facendo uscire te ora appena torno riesco faccio uscire anche a Tullio e a Sveva non potrò arrivare fino all'entrata dell'encana perché c'è il lago però in compenso vi ho fatti uscire oggi dopo che c'è una giornata discreta da un po' l'ho muore bravo da io Grazie.